buongiorno amici buongiorno amici allora ho preparato la colazione ci ho piegato un'ora e mezza perché stavattina sono internet più del solito ma ho fatto i pancake ci abbiamo paolo la colazione proteica ho fatto i pancake però da mangiare ad accompagnare con il salato papà certamente riporto a tavola le varie componenti della colazione i gatti non mangiano quello che ho già portato ma che pranzo un brunch la tua manina che ti perseguito la manina gira ok fatta mettiamo un piattino vediamo dopo per la colazione metto due piattini buono sei industriale ma tutto fatto in casa loro perché fanno solo quattro granite caffè cioccolato come dici tu pistacchio e mandorla mio padre viziato è voluto per forza venire ai siciliani a prendere l'aperitivo e così come bambini come bambini è proprio una bici sono la panna sono portati stiamo mangiando gli spaghetti le linguine c'è chi è chi è chi è come si permettono di volare la bicchiera le puoi andare a prendere basta mi hai messo allora 17 di novembre dovevamo andare a cena fuori però siccome oggi siamo stati fuori tutto il giorno c'era pure un ospite a cena mi ha fatto invece di fare i passatelli in brodo io poi ho fatto delle altre cose qua ho fatto l'ananas però non trovo lo zucchero di canna quello mio nuovo non so dove l'ho infilato l'ho fatto così ho fatto aroma roma di flagorat succo di limone e zucchero aromatizzato la cannella e la vaniglia qua scusate che limondizia allora amici questi sono i meravigliosi passatelli che avete visto nel vlog precedente fatti con un brodino di carne l'ho lasciato e ci va un po di basilico ne esalta proprio il gusto io le adoro i passatelli quelli che faccio quando lavavo lo schiacciapatate hanno sempre una forma spettola va un po' strana ti ricordi che la materia che ho fatti a mano spettola va fermo non so quasi 2800 ultimamente in maniera verso manca le fine zero ma scovado però il mascovado non c'è perché è sparito nel nulla quindi è di nascosto e per finire la cena un pezzettino di frutta marconano buonissima buongiorno amici quanti abbiamo oggi 8 8 novembre spaghetti alla norma spaghetti da chitarre alla norma mi sbrigo perché è tardissimo allora la pasta è pronta devo girarla ok seguimi che io posto a tavola a tavola è sicuro l'ho trovato ok a tavola a tavola e che si è mosso diritto diritto che cade ma si è portato anche il sugo supplettivo cos'è ma la salsa potente sì petti 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 che vuole devo che era una imitazione della mutti invece è saltato fuori che è una buona sera amici 8 novembre ore 18 e 20 vi vedete con una faccia scura perché stamattina mi sono nervosita da morire in questi giorni in questi giorni ve l'ho detto mi vedrete spesso le vlog con la faccia di merda perché sto nervosa ma in realtà allora un po' lo stress del lavoro eh c'è da dire la verità sono molto stressata però poi ci si mettono anche gli altri stamattina mio padre nella fattispecie vabbè la cosa non era grave perché ieri sera ho preso del suo computer perché il mio c'è il monitor rotto e la tv ce l'aveva lui e quindi praticamente non poteva usarla come monitor allora gli ho chiesto se mi dava il suo computer e mi fa sì però se domani tu ti alzi tardi perché stamattina volevo riposare un po' di più gli ho detto mi chiami al massimo te lo porto poi comunque voglio dire sei a Roma e domenica mattina esci ti vai a fare una bella passeggiata c'è il sole no doveva studiare biochimica lui di domenica mattina alle otto e mezza lui mi ha chiamato io non lo sento il telefono quando mi sono svegliata mi fa eh ho sbagliato io a dartelo al computer non ce l'ho visto più adesso sono rimasta nervosa tutto il giorno vabbè oggi ho cucinato come avete visto nel vlog e tutti avevamo pure persone a casa ma vai persone un amico avevamo a casa anche la volta 50 sono rimasta nervosa tutto il giorno notare la sigaretta rosa non bisognerebbe farla vedere è leggera eh però non faccio vedere che fumo ovviamente perché mi fa schifo ma oggi sto fumando più del solito perché sono nervosa adesso sto volando a comprare un regalo per la mia prof perché domani compie gli anni e quando torno a casa preparo la angel cake per per la mia prof non ho lo stampo l'ho ordinato su Amazon a 10 euro però ancora non mi è arrivato ma lo faccio con un con uno stampo che ho con uno stratagemma che utilizzo io ci sono più cose nei denti ci vediamo tra un po' adesso sefora poi limoni perché ho dei buoni pasto che prende dei top premium che prende che prende limoni però da sefora voglio prenderle la vasca per per confezionarle il regalo poi devo passare al supermercato a prendere qualcosina per cena e ci vediamo più tardi ciao domenica un bacione buonasera amici allora questa è la video ricetta della Angel Cake se la vedrete vuol dire che rispetto a me è riuscito siccome questa è la torta per la mia professoressa che domani compie gli anni utilizzano il colorante blu e non so se questo comprometterà qualcosa per cui se non vedrete questa ricetta vuol dire che allora le dosi perché già questa rischierà di traboccare figuriamoci abbiamo preriscaldato a 160 gradi in forno statico e ricordatevi che il forno è diverso per cui 200 gradi in forno statico a 180 gradi per 40 minuti ok ci vediamo ha risultato finito ci stiamo mettendo a tavola Nabichi è nervosa adesso anche tu mangi almeno provete zuppa di pollo e mais bella finita tra tutti e due zuppa di pollo e mais e coltellette gluten free e zucchina alla poverella e per finire gelato con la nostra cena speciale gelato regata marina e cassata ci avrebbe anche il fondino qua così con le coppetta che si mettono così e poi formano tutto il trittico facciamo qui la congratulazione a Felicetta perché ne sono nati sette piccolini per il tappo in termini per la prima volta che, per il tappo in termini questo è dietro proteica è proteica vero è proteica assoluta Sì, perché dentro c'è della crema che non mi dava tanto di cose, un rosso che dava abbastanza sull'esagerazione, buongiorno amici, scusate avrei voluto farvi vedere molto di più, mio padre ha detto minchia ancora prima di, ma ho avuto da fare, adesso devo preparare il piattino, ci vediamo dopo. Buongiorno amici! Allora, per una volta non sono in Modello, siamo a Piazza San Giovanni, ma sto facendo una cosa nuovissima, sto andando in clinica, c'è riscaldamento a due, sto schiattando, ecco perché, scusate ma ecco qua, sono tendenziale, come al solito affilo, affilo, affilo con gli orari, cosa che io, allora, io odio arrivare in ritardo, però ad esempio sono una di quelle che quando qualcuno ritarda non si spazientisce, a meno che non abbia delle cose da fare che mi precludono poi le altre che devo fare dopo, però ad esempio mi è anche capitato proprio di recente di aspettare un paziente un'ora e mezza, perché ha avuto un problema, cose che possono succedere, era un sabato e ringraziando il cielo non avevo altre viste dopo e non mi sto neanche nervosita, perché comunque comprendo, invece molte persone non comprendono, perché ci sono persone che detestano e tante persone dicono io arrivo sempre in anticipo, è vero, educazione, tutto, ma non è sempre possibile, specialmente se vivi a Roma, se ti sposti un po' in mezzo, un po' con la macchina, se ti sposti da una parte all'altra della città, se hai da fare dalla mattina alle 6 fino alle 2 di notte, insomma, spesse volte il ritardo non dipende proprio da un fatto di buona educazione, ma dalle contingenze. Finito il pippone, mi aggiorno un attimo, c'è mio papà, come avete visto, nel vlog sono indietrissimo, quindi credo che pubblicherò il vlog, cioè vedrete 2-3 vlog di fila, che riequilogano un po' gli ultimi 20 giorni, perché ne sto montando uno, ma lo faccio di notte, tipo alle 2-3 di notte faccio un pezzettino alla volta e poi puntualmente mi addormento mentre monto il vlog, perché ovviamente sono morta di sonno, ieri erano le 4.40, stanno ieri notte perché è finito tardissimo, poi dovevo sistemare delle cose, dovevo preparare dei piani di lavoro per i pazienti di oggi, quindi fatta staccare, hanno le 4 passate e ho montato 2-3 minuti di vlog, ma poi non ce l'ho fatta più, quindi vedrete tutto insieme. Allora, c'è mio papà, sta andando tutto bene, non non sta rompendo più di tanto le palle, certo io ho fatto proprio un piano certosino per non farmene rompere, nel senso che... non potrebbe... non gli do proprio modo, evito qualsiasi cosa che so che gli dà fastidio, però ad esempio se cerca di attaccare la solpa al troncoli invece di fare come al solito, che io sono una molto puntigliosa, non più coglioni, e se so di avere ragione cerco di... però lascio correre, di modo da evitare, perché già c'è un sacco da fare, se perdi più mi metto per aver tempo a discutere, mi nervosisco, non riesco a mangiare, non riesco a mangiare proprio... Quella è granchio, vero? Sì, sì, granchi e asparagi, no, la mia c'è quella di gnocchi in più, buonasera, c'è una cinese, filetto di olato all'acqua pazza e zuppa di gamberi, è buona ancora anche stasera, buonissimo, perché è un po' corretta. Mi sono stravolta, ma ancora ci vorranno 3-4 ore prima che io possa andare a letto. A dopo ragazzi, buon appetito! Ciao Colomba, sei rientrata o sei ancora... Orata all'acqua pazza, con patate. Stiamo mangiando adesso. Sono rientrata della felicità oggi, io sono molto contenta, mi vedete, e questo andrà nel vlog, e se quando montano il vlog mi sarà passata l'incazzatura, non saprete mai perché sono incazzata, altrimenti lo saprete. vedremo. Spero, spero che mi sia passata. Sì, dai. Sì, tante cose. Sì, è troppo bella, certo. Ma tu mi riesci a farmi venire bene? No, 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 non è vero perché io ti tiro... Allora amici, abbiamo stasera una cena molto rustica, con vino, quelli che si proprio imbottigliano, vino di botte, vino di botte, ma non si chiamano botte, sono di metallo, come si chiamano? Ci sono le friselle di altamura, pure. Un prosciutto fantastico, senza conservanti. Vedi, questa mai metterla in frigo, l'ammazzo se non metti in frigo. Ah, si può tenere in frigo? Non si può mettere in frigo. E dove si prende? Sì, no, vabbè, ma mettine uno perché noi quando mangiamo così ci piace mangiare caillordo. Guarda che spettacolo. Adesso prendo la bacinella. Sento molto sussara questa sera, ragazzi. Guardate la zizzona. C'è la goduria anche nel tagliarla. È buona, ma guarda, sentite cos'è? La mozzarella. Cos'è? Sì, lo sai quanto la paghi? No, no, si paga, si trova, si trova, si trova. Quella da due e mezzo la paghi sei euro. Ma una cosa di questa quanto costa? Questa pesa un chilo. E appunto. 25 euro. Sottotutto è pure di... 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 fatta... Un logo. Un logo. Davrà un valore... Che cosa è successo? Che cosa è successo? Un po' artigerato. Adesso quelle lì che hanno ammazzato il bambino stanno facendo la scena del matto eh. No, no il bambino, quello che ha ammazzato quel ragazzo. ci ha sparato... Ah, quello di Ancona. Ah, ha detto il mio figlio. E questo... Com'è sto? Com'è sto? Com'è sto? Com'è sto? Com'è sto? Io l'ammiro questo... Questa è un po' felice paniero. E' stato il mio idolo. C'è... Fanno report felice paniero eh. Papà tu ti devi vedere... Allora... Quando è? Domenico sabato fanno report felice paniero. C'era un'altra domanda... La storia della madre... Per vedere tutto. Appunto fanno proprio quello... Ora lavora col figlio. Dice proprio quello. E' la storia della figlia che non è vero che... Che si sarebbe suicidata... All'ammazzata per il perlietta contro di lui. Beh, beh. Quello è il minimo... Scindacale. Eh? No. Non fargli del paziente. Basta, basta, basta. Basta, basta. Basta il paziente. Basta. Non voglio più far di magari nessuno. Basta. Questo passo. Eh, davanti a qui. Com'è? Com'è? Moradino. E' il patino. E' il patino. E' buonissimo. Il patino è buonissimo. E' buonissimo. E' buonissimo. Il patino. E' prosciutto? Io gli ho detto che lo trovavo un po' salato. Gli ho detto, no, ma si scherzi, è dolce. E' un po' salato. Eh, beh. Però è buonissimo. Perchè no mi chiede se mi è seducanissima Guarda il prosciutto, la mozzarella, non le date niente, non le date niente, che fa la stizzinosa Guardiamo Robertini, Robertini, hai visto come sta frattando? Hai visto? Anche se le dà una cosa che non le piace, un pezzo di carta pur di non farlo mangiare al gatto se lo mangiare a chi? Sì, devo stare attenta io perchè rischio veramente di cagarmi addosso, ah no, piano perchè lo sai che queste cose qua Io queste cose qua sono ingrassate a morti e anche dei tuoi dolci, con i salami, con il mangio Questo l'hanno portato all'ospedale Quanto pesi tu babà? Ha rubato Quanto da 70 Allora 10.000 unità per chilo di peso corporeo in ognuno ce ne sono Ha rubato la pistola a un poliziotto, la sparata all'impazzata Mille, aspetta, mille unità per chilo di peso corporeo in ognuno ce ne sono 10.000 Ma tanto quando le repliche, se vai a un demanda lo trovi Sì, stanno commettendo un reato Ma ce l'hanno tutti, basta che tutti quelli che hanno scarbo Ah è vero E' vero Ok, ciao E' l'ultima puntata dell'altra cosa Della saga e della cara dell'Iranchio Buonasera amici Oggi è il 13 di novembre O il 14 No il 13 credo Lo saprò dire Sono le ore 18 e 27 E io sto facendo dei giri Un po' di lavoro, un po' di casa Dopo anni mi vado a parte C'è stato un pochettino di Ehm Oggi siamo il 13 ma il 14 Di novembre